Per la prima volta mettiamo a disposizione risorse della programmazione comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le imprese creative, con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 800 mila euro, affinché in Umbria cresca e si rafforzi quel tessuto di imprese che operano per mettere in sinergia cultura, beni culturali e i cittadini, generando occupazione e ricadute economiche. Questo ha sottolineato l'assessore regionale della cultura Fernanda Cecchini, illustrando nel corso di una conferenza stampa i criteri generali dello specifico bando che verrà emanato dalla regione Umbria. Fondi comunitari a disposizione del mondo culturale, in questo caso non per la gestione ma per investimenti, per creare o sostenere imprese creative che danno la possibilità di mettere in sinergia, di mettere in rete, di mettere in relazione i cittadini con i beni culturali, con la cultura, con le attività, quindi risorse, poco meno di 3 milioni di euro, con Umbando che andiamo oggi a presentare per, credo, dare una mano a far crescere la nostra comunità.